Noi non siamo preoccupati per quello che è accaduto, ma per quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni e nei prossimi mesi. Così Cesare Mevoli, fratelli d'Italia, commenta l'atto vandalico ai danni del circolo del partito Cantieri Sociali, un'insegna mandata in Frantumi giovedì sera, nello stesso giorno in cui identico trattamento è stato riservato ad un altro circolo, Atreiu, che fa capo invece a Roberto Quarta, stesso partito, diverse vedute sulle scelte e le prospettive per Brindisi. Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine per risalire responsabili alle motivazioni di gesti deprecabili. Il danno è relativo, con l'aiuto degli iscritti le insegne saranno ricambiate, risostituite. Quello che ci preoccupa è che tra qualche mese il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, riceverà in provincia di Brindisi i capi di Stato del mondo e questa cosa non può non destare preoccupazione.